salve qui ho tagliato appena adesso la carne in gelatina che ho fatto che gelatina ce n'è pochissima e questa era soltanto e solamente carne di una testa di maiale non c'è nessun'altra carne ma solo la carne delle guance di maiale orecchie e muso ed è venuto così si vede bello rosso con un po di lardo che non guasta sono abbastanza contento anche di questo alla prossima ciao e ciao di nuovo e qui lo stiamo mettendo sotto vuoto perché è troppo per mangiarlo subito è tutto e siccome sono andato in ferie lo mettiamo sotto vuoto ecco qui bello sotto vuoto alla prossima ciao ed ecco quali abbiamo messi tutti sotto vuoto un bacco con due due ma questi sono belli grossi che dopo che devo mettere quando apro abbiamo messi uno sotto vuoto uno